Se in Italia aspira il vento dell'antipolitica è necessario studiare i modi attraverso i quali riavvicinare i cittadini alla politica. Non bastano più proclami e promesse ma urge un vero coinvolgimento della società civile nei processi decisionali. L'associazione prima persona, nata un anno fa da un'idea del vicepresidente del Parlamento europeo Gianni Pittella, si propone di accorciare le distanze tra cittadini e cosa pubblica, ma lo fa senza il ricorso ai partiti. Per questo anche a Bari nasce il circolo di prima persona presieduto da Mino Carriero e inaugurato alla presenza della deputata del PD Margherita Mastromauro. Sarà un osservatorio sulla città di Bari e sull'area metropolitana, spiega l'onorevole Pittella. È un'associazione apartitica di forte cultura politica e finalizzata a stimolare la partecipazione dei cittadini su alcuni temi. Il primo tema è appunto come rafforzare la democrazia in Italia. Il secondo tema è come difendere i beni comuni, aria, suolo, acqua, paesaggio, cultura, ricerca. Il terzo tema è recuperare un sano civismo, quindi un protagonismo dei cittadini e una consapevolezza non soltanto dei propri diritti ma anche dei propri doveri. Il quarto tema è l'Europa federale e il quinto tema è il Mediterraneo.